Abbiamo Andrea Bruno, buonasera Andrea e grazie per essere qui, perdonaci la coglionaggine Ciao Andrea Anzi perché noi siamo stati così morbidi e leggeri, contai perché adesso noi ti abbandoniamo Allora, già questa immagine, questo ritratto, basta Dopo il dalla rossa, quella cattiva, cioè una seconda rossa che incute terrore negli studi Prego, a te la linea Ciao Andrea Ciao Allora abbiamo visto appunto il book trailer del tuo ultimo volume che hai pubblicato con Vasco Brondi Se vuoi introdurcelo tu con una breve, non so, come lo vedi, come lo riassumeresti tu per coloro che non l'hanno letto Ma posso dirti brevemente com'è nato, è nato da un incontro precedente con Vasco Visto che io avevo già disegnato la copertina e tutte le illustrazioni del suo secondo disco E poi dopo qualche mese lui mi ha proposto una storia che aveva già scritto, era già finita, un soggetto abbastanza sviluppato Mi ha chiesto se aveva voglia di farne un libro a fumetti, di disegnarlo Poi successivamente mi ha anche detto che l'aveva proprio pensato per i miei disegni Io ero contento di farlo, quindi è nata questa cosa qui Si può dire che ti è andata di culo? Cioè potremmo riassumere che ti è andata veramente molto bene, voglio dire Storia già scritta, Vasco Brondi che ti contatta Io ti ho interrotto però solo perché lei si è un po' intimorita per questa fama E ti ha lasciato la domanda libera, diciamo Ma dopo che noi lanciamo la sigla della sua domanda, della domanda fumetologica Lei prende la carica, quindi lanciamo la sigla e poi Giada, no domande aperte, mi raccomando Senza pietà Sigla Ok, spegniamo la cicca Ok, allora cattivissima In realtà è interessante quello che dici nel senso che Vasco ti ha portato appunto un testo già pronto Quindi è un'opera che è nata in parole però già pensata poi per le tue immagini tra l'altro E quindi poi si sono incontrate e leggendo il volume comunque si vede che c'è un incontro Però non corrono sempre parallele, diciamo Le parole di Vasco appunto sono simboliche, molto spesso metaforiche E le tue immagini evocano alcuni, evocano sicuramente la storia E al contempo anche loro aggiungono quello che magari le parole non dicono E si incontrano in questo modo Sì Beh, intanto diciamo che secondo me questa è un po' una delle cose belle del fumetto L'idea che le due piste, il testo e le immagini a volte si possono anche un po' allontanare Ecco non devono sempre ripetere le stesse cose, dare lo stesso tipo di informazioni Poi c'è da dire che Vasco che è un appassionato di fumetti, li conosce, li ama Insomma, ha scritto questa sceneggiatura appunto pensandola per immagini Aveva una qualità visiva molto forte Però al tempo stesso non è una sceneggiatura iperprofessionale Non è uno sceneggiatore di fumetti, giustamente E quindi mi ha dato una certa libertà dal punto di vista, diciamo, della regia Della scelta, di inquadrature, eccetera Quindi lui aveva sostanzialmente una storia Dei dialoghi, delle ambientazioni Tutto molto preciso Però poi sulla questione di regia, di ritmi Di scelte più tecniche, di queste cose Diciamo, me le ha delegate Ed è andata bene così Forse è proprio questa la forza dell'opera, infatti Vedendola, nel senso, si percepisce questa cosa E secondo me i due linguaggi si arricchiscono Senza appunto accavallarsi o togliersi spazio a vicenda E per entrare nel merito, appunto, tu parli anche proprio Di dove si ambienta questa storia È una città che sembra costantemente infuocata Perché? Nel senso, i colori che compaiono alla fine Sono soltanto quelli delle fiamme quasi Come se sullo sfondo ci fosse qualcosa che brucia Sullo sfondo di queste tre vite Di questi tre giovani che si incontrano Si incrociano E poi si lasciano, appunto Lasciando queste strisce come quelle che lasciano gli aerei nel cielo Lasciando solo un ricordo, un'immagine che se ne va Sì, diciamo intanto che la città Dove è ambientata la storia È una città più o meno Indefinita In realtà è un po' un incrocio Un mix di alcune città Di Ferrara, di Bologna E altre Insomma, abbiamo deciso di lasciarla un po' indeterminata E al tempo stesso ci sono alcuni luoghi Che sono disegnati dal fumetto Che invece vengono veramente da Diciamo da Dalle fotografie Insomma, sono degli angoli reali Ad esempio di Ferrara Della periferia di Ferrara Altre cose vengono dalla periferia di Bologna Dove io mi trovavo fisicamente Quando disegnavo questo libro La scelta cromatica è stata Devo dire Bastanza immediata E naturale Nel senso che Quando abbiamo cominciato a parlare di questa storia Quando io ho letto Questo soggetto Diciamo tutti e due ce la siamo subito immaginata A colori E con questo tipo di scelta Cromatica E con una dominante rossa Fortissima In realtà non ce la siamo mai nemmeno ben chiariti Il motivo Però diciamo che Immediatamente ce la siamo vista così E abbiamo immaginato il libro Che poi è venuto fuori Insomma Tieni presente che io normalmente Lavoro in bianco e nero E quindi Questa era anche per me una sfida Se vuoi Cioè fare un libro Una storia lunga Interamente a colori Era Scritta da un'altra persona Scritta da me Come di solito Insomma è stato anche un Un modo per Provare a fare qualcosa di diverso dal solito Ok Noi ti ringraziamo per essere stati qua con noi Andrea Barbaluca come ti è sembrata la situazione La nostra Giada è un po' più buona Sì è stata un attimo ammorbidita E soprattutto questo lo ha letto Forse è quello Questo lo ha letto Va bene Giada Aspettiamo quindi un altro ospite Mandiamo una clip dalla regia E aspettiamo Grazie Andrea Ciao Grazie a voi Grazie Andrea E buona serata Buon divertimento Lina alla regia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti